Cari quaddisti, eccoci con Fulvio di Inquadra, strepitosa terza posizione del team Inquadra con Tony Susa Borgia in gara 2 dell'Europeo. Fulvio, racconti, ci credi? Bellissima gara, bellissima gara, sì sì dai, ci siamo impegnati tanto e siamo stati premiati. Con due parole su Tony? Tony è un grande pilota, è un grande pilota per l'esperienza quest'anno dell'Europeo, volevamo un attimo vedere un attimo qual era il livello, ci siamo, ci giochiamo bene l'italiano e quindi speriamo bene almeno di fare un buon pensamento all'italiano. Eccolo Tony Susa Borgia con Fulvio di Inquadra, guardate signori, terzo posto all'Europeo. A volte non riescono a capirsi perché parla solo francese e i complimenti di tutti i piloti a Tony Susa Borgia. Complimenti del Tin Cozzi, eccoli. Signori, da quaddisti.it o dal Fero, un saluto dal podio.